preghiera san giuseppe padrono dei laboratori san giuseppe modello e padrone dei laboratori ci rivolgiamo a te con fiducia aiutaci a trovare nel lavoro non solo il nostro sostentamento quotidiano ma anche una fonte di merito per la vita eterna tu vivendo accanto a gesù figlio di dio e a maria sua madre avessi la fortuna di penetrare le loro sublime intenzioni concedi a noi di stimare il lavoro e di amarlo come voi l'avete amato fa che operiamo con spirito di penitenza con diligenza e pace consapevoli di fare la volontà di dio mentre egli ci chiama a continuare a perfezionare l'opera della sua creazione possiamo considerare la nostra vita come una giornata di fatica e di semina in attesa del riposo e del raccolto nell'eternità san giuseppe intercedi per noi e proteggi e custodisci la nostra quotidiana fatica nel mondo del lavoro amin fatica nel mondo del lavoro Grazie a tutti